Oggi abbiamo presentato il listino e il programma, il programma è già pronto ed è già in diffusione da 15 giorni, l'abbiamo già ampiamente illustrato nelle province del VCO, di Alessandria, di Vercelli, di Biellaieri, proprio portandolo puntualmente nei vari territori del nostro Piemonte. Oggi abbiamo voluto presentarlo qua a Torino insieme ai 10 rappresentanti del listino, che sono donne e uomini del nostro Piemonte, con un'età che è dal 49 anni a 31 anni, quindi una squadra del listino molto giovane, 4 donne e 6 uomini, lo voglio sottolineare perché in Piemonte non c'era una legge che imponesse le quote di genere, ma la sensibilità è quella di voler fare la squadra più ampia possibile e che tenga conto di tutte le specificità, persone di valore, persone capaci, persone che hanno un radicamento territoriale o come professionisti o come amministratori, piccole province rappresentate in modo da essere certi che nessuno rimanga indietro e quindi una squadra che io credo completa, bella e soprattutto con una grandissima energia. Una squadra con un motto, uno slogan ben preciso, un'altra velocità per il Piemonte. Sì, la velocità è ormai tutto, lo insegna la televisione, lo insegna internet, lo insegnano i nostri imprenditori. La velocità fa sì che noi oggi come Piemonte non possiamo essere i lenti in un contesto in cui la Lombardia va veloce, la Svizzera va veloce, la Ronalp vanno veloce. Noi abbiamo gli imprenditori che vogliono andare veloci, la regione spesso non sa accompagnarli con adeguata velocità. E allora dobbiamo necessariamente cambiare modo di approcciarci alla macchina amministrativa, eliminare la burocrazia e soprattutto usare i soldi dell'autonomia e dei fondi europei che io dopo cinque anni a Bruxelles ben conosco per riportarli in Piemonte e per ridare lo sviluppo necessario a questa regione. Velocità? Altri punti di programma sul quale insomma punterete? Noi punteremo sull'autonomia perché l'autonomia che ricontratta il modo che il Piemonte ha di stare in Italia libera delle risorse economiche. Punteremo sui fondi europei che oggi il Piemonte spende poco, lentamente, e sono fondi che io ho visto andare in tutti gli altri paesi, in Polonia, in Bulgaria, in Ungheria e non tornare in Italia e non tornare nella nostra regione. Quindi con questi due sistemi, autonomia e fondi europei, noi avremo le risorse economiche per un grande piano Marshall per le infrastrutture del Piemonte perché la viabilità ordinaria va a pezzi nella nostra regione e dobbiamo salvaguardarla. Un'idea molto chiara sulle infrastrutture, quelle strategiche, dal terzo valico al corridoio mediterraneo o TAV, all'Asticuneo, alla Pedemontana, cioè tutta una serie di interventi che vanno realizzati. Volando alto, ponendo il Piemonte in un'ottica promozionale di se stesso e delle sue specificità insieme alla Baviera, insieme al Baden-Württemberg, insieme al Ronalp, ma non dimenticandoci degli interventi puntuali. Interventi puntuali vuol dire che la vita delle persone poi è fatta di cose concrete. E allora una politica attenta sulla casa, una politica attenta sulla sicurezza, una politica attenta sulla sanità. Oggi ci vogliono 220 giorni per un cittadino piemontese per fare una visita alla prostata. Io credo che i tempi della sanità siano inaccettabili e vadano immediatamente restituiti al diritto alla salute, quindi alla velocità, anche in questo caso, per tutti i cittadini piemontesi. E poi una grande attrattività per le imprese del Piemonte. Chi verrà a investire in Piemonte avrà agevolazioni fiscali, avrà agevolazioni burocratiche, procedurali, perché solo creando occasioni per le imprese noi creeremo il lavoro. E il lavoro sarà la priorità mia da Presidente e di tutto il nostro Governo regionale per tutti i cinque anni di mandato. Lavoro per i piemontesi.